Tutti i potenzialmente gli esercizi fisici nel crano che ha sono diretti a uno scopo ben preciso, richiamare tutta una serie di schemi motori che ci servono poi nelle tecniche, non ai fitness, cioè è chiaro che ti fai anche il fisichetto, ma l'obiettivo non è farsi il fisichetto, e cominciare a farvi utilizzare il vostro corpo in una chiave nuova che vi consente di poter applicare le tecniche di attacco e di difesa, avendo già le basi pronte. L'idea, come spesso dico, è che il cramaga non si butta via niente, no? Per cui dobbiamo fare riscaldamento, ok, utilizziamo il riscaldamento con la finalità di attivare anche il cervello, dobbiamo fare potenziamento, ok, facciamo potenziamento con la finalità di creare già gli schemi motori e la capacità di utilizzare il nostro corpo per generare potenza o per resistere strutturalmente a delle forze. Perché strutturalmente? Perché se dovessimo farlo semplicemente con la forza dei nostri muscoli, potenziamento ne dovremmo fare davvero tanto, visto che generalmente gli aggressori sono molto più grossi di noi. Tutto qua è molto semplice, ma va fatto. Grazie.